Domenica sera a Cortina un'auto è uscita di strada dopo la perdita di controllo del mezzo del conducente. L'auto è precipitata in un'area coperta da vegetazione. Per portare soccorso ai due occupanti sono intervenuti i vigili del fuoco e il SUEM. I carabinieri hanno eseguito i rilievi. Dopo aver soccorso gli occupanti la macchina è stata recuperata con l'autogru.